Benvenuto in questo tutorial di Procreate. Che cazzo sto a fare? Ben tornato Aiko. Oggi nuovo tutorial di Procreate. Allora creiamo un nuovo file. Creiamo un nuovo file. Quadrato. Prendiamo. Prendiamo il pennello. Benvenuti a Radio Artcraft. Andare cazzati. Benvenuto eh. Mi raccomando se non sei iscritto iscriviti. Metti il like. Senza il tuo so di. Oggi disegniamo i doodles. Video SRM. ASMR. Fanno sapere nei commenti. Senti la sedia che si muove. Quanto so deficiente. Sketching. Se non lo sai, per tornare indietro due dita. Iniziali. Buona visione. Buona visione. Faccio un disegno che puoi fare anche tu. Ma cazzo di cane. mi senti qua sto a sinistra adesso sto a destra adesso al centro estica la 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 il nome di un uombre di niero di Muccio, di Muccio Kiko del T bro ho la la del INità di Grazie a tutti. Ti manca la serrema, la serrema, la serrema, la serremontaci. La staccava tutta la sera fermata a registrazione, speravo che non ho perso tutto, porca! Adesso facciamo i denti! Ok! come io voglio chupas ma che scrive chupas come se scrive chupas 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 però ops se lo trovo la cuva anche la nuova la trova no? immagini eccola è 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 ragazzi il video finisce qui ci vediamo prossima settimana se vuoi vedermi a disegni seguimi su instagram un saluto da Artegraffa ciao Wow.